buongiorno ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it apriamo con la cronaca poche ore fa a gavirate si sono vissuti momenti di grande apprensione per un addetto all'igiene urbana rimasto schiacciato dal mezzo di servizio vediamo il servizio con le immagini di stefano benvenuti agenzia blitz grave incidente poco dopo le 8 di sabato 5 marzo a gavirate in via bixio per causa ancora da accertare un 36enne rimasto ferito in base ai primi riscontri si tratta di un addetto all'igiene urbana l'uomo era sceso dal mezzo per raccogliere un cestino dei rifiuti a bordo strada quando il veicolo si è messo in movimento e lo ha schiacciato contro il muro di cinta di un'abitazione subito alcuni testimoni hanno lanciato la richiesta di aiuto sul posto sono accorsi un elicottero del 118 un'ambulanza della croce rossa insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della stazione di gavirate e alla polizia locale l'uomo dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in codice rosso ossia quello che indica le situazioni più gravi al pronto soccorso dell'ospedale di circolo di varese la guerra in ucraina ancora in primo piano anche a varese oltre alla mobilitazione generale per gli aiuti umanitari c'è grande apprezzione per le persone rimaste là e legate alla nostra provincia è il caso di david uno studente di 18 anni iscritto alla facoltà di ingegneria all'università dell'insubria tornato in patria per sottoporsi alla seconda dose di vaccino non è più riuscito a rientrare in italia a causa appunto della guerra ora ha trovato ospitalità da alcuni parenti a leopoli ho paura ha detto in un'intervista alla prealpina ma dove mi trovo credo di essere al sicuro al momento il villaggio non è stato colpito dai bombardamenti la notte però sento le sirene e mi rifugio in cantina e torniamo alla cronaca la notte scorsa a gorla maggiore un ragazzo di 27 anni è stato soccorso dopo essersi ribaltato con la propria auto l'incidente è avvenuto in viale europa sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di tradate insieme ai carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica sul luogo dell'incidente è arrivata anche un'ambulanza il 27 è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale galmarini di tradate non è in pericolo ma ha riportato traumi seri e spostiamoci ora a castellanza dove la guardia di finanza ha sequestrato una villetta del valore di 250 mila euro si tratta dell'ultimo atto di un'indagine cominciata nel 2015 su un gruppo specializzato nella cosiddetta truffa del cambio in sostanza facoltosi clienti stranieri venivano allettati con la possibilità di cambiare valuta in contanti e a un tasso molto vantaggioso al momento dello scambio però grazie a strutture dotate di doppio fondo le banconote originali venivano scambiate con altre fasulle la truffa scoperta dai finanzieri ha portato alla condanna di due uomini cubani e una donna di nazionalità serba a cui appunto è stata confiscata la villetta ora l'immobile sarà destinato a realtà impegnata nel sociale e da varese arrivano proposte per migliorare la zona della schiranna tutti i dettagli nel servizio curato da adriana morlacchi con immagini di stefano benvenuti agenzia blitz siamo qua in compagnia di elison vidali alla schiranna è un po l'anima del playground dell'area dei bimbi e ci racconta un po cosa dicono i suoi clienti di questa zona buongiorno mi chiamo elison qua è una zona tranquilla per i bambini che piace molto anche le famiglie infatti alla domenica c'è sempre il via vai di gente anche che vengono da fuori da milano in tre zone qua nel circondario nel varisotto io con la mia famiglia gestisco questo parco qui le giostre così che vedete qua e l'unica cosa un pochettino da migliorare sono i bagni ma perché tutta la gente che dicono anche se guardate sulle notifiche del parco zanzi che sono un po più da controllare e basta come l'iniziativa dei ciucci l'iniziativa dei ciucci è nata con le mamme così che mi chiedevano perché tutte le volte i bambini piangevano e roba per scherzare ho fatto questo cartellino che ogni volta chi porta qua il suo ciuccio regalo un giro qua sulla mia giostra il playground e dicono che funziona le mamme i bambini non chiedono più il ciuccio e questa l'ultima notizia l'appuntamento con un'informazione di prealpina.it torna come sempre questa sera alle 19 e una buona giornata